Unità 14. Conversazione. Ascoltate. Mi scusi, lei è straniero? Sì, sono spagnolo. È la prima volta che viene in Italia? No, ci sono venuto un'altra volta. Quando è venuto per la prima volta? Ci sono venuto l'estate scorsa. Ripetete. Sette. Mi scusi, lei è straniero? Otto. Sì, sono spagnolo. Nove. È la prima volta che viene in Italia? Dieci. No, ci sono venuto un'altra volta. Undici. Quando è venuto per la prima volta? Dodici. Ci sono venuto l'estate scorsa. Rispondete e ripetete. Tredici. Mi scusi, lei è straniero? Quattordici. Sì, sono spagnolo. Quindici. È la prima volta che viene in Italia? Tredici. No, ci sono venuto un'altra volta. Diciassette. Quando è venuto per la prima volta? Diciotto. Ci sono venuto l'estate scorsa. Ascoltate. Lei è straniera, signorina? Sì, sono spagnola. È già stata a Cortina d'Ampezzo? Sì, sono già stata in questa cittadina montana. È quello il suo albergo? No, quell'albergo non è il mio. Qual è il suo? Il mio è situato dietro a quello. Si chiama Albergo Cristallo. Ripetete. Sì, diciannove. Lei è straniera, signorina? Venti. Sì, sono spagnola. Ventuno. È già stata a Cortina d'Ampezzo? Ventidue. Sì, sono già stata in questa cittadina montana. Ventitré. È quello il suo albergo? Ventiquattro. No, quell'albergo non è il mio. Venticinque. Qual è il suo? Ventisei. Il mio è situato dietro a quello. Si chiama Albergo Cristallo. Rispondete e ripetete. Ventisette. Lei è straniera, signorina? Ventotto. Sì, sono spagnola. Ventinove. È già stata a Cortina d'Ampezzo? Trenta. Sì, sono già stata in questa cittadina montana. Trentuno. E' quello il suo albergo? Trentadue. No, quell'albergo non è il mio. Trentatré. Qual è il suo? Trentaquattro. Il mio è situato dietro a quello. Si chiama Albergo Cristallo. Ascoltate. Di chi sono queste valigie? Sono le mie. E le nostre dove sono andate a finire? Le vostre? Io non le ho viste. Allora dove sono? Vado a vedere se sono rimaste nella corriera. Ripetete. Trentacinque. Di chi sono queste valigie? Trentasei. Sono le mie. Trentasette. E le nostre dove sono andate a finire? Trentotto. Le vostre? Io non le ho viste. Trentanove. Allora dove sono? Quaranta. Vado a vedere se sono rimaste nella corriera. Rispondete e ripetete. Quarantuno. Di chi sono queste valigie? Quarantadue. Quarantadue. Sono le mie. Quarantatré. E le nostre dove sono andate a finire? Quarantaquattro. Le vostre? Io non le ho viste. Quarantacinque. Allora dove sono? Quarantasei. Vado a vedere se sono rimaste nella corriera. Ascoltate. Di chi è questo vestito? È il mio. È il tuo vestito nuovo? Sì, è il mio vestito nuovo. Ma tu sei matta. Guarda un po' com'è ridotto questo vestito. Senti chi parla. Di chi sono quei dischi gettati per terra? Che centro io? Non sono i miei. Sono di Maria. Ripetete. Quarantasette. Di chi è questo vestito? Quarantotto. È il mio. Quarantanove. È il tuo vestito nuovo? Cinquanta. Sì, è il mio vestito nuovo. Cinquantuno. Ma tu sei matta. Guarda un po' com'è ridotto questo vestito. Cinquantadue. Senti chi parla. Cinquantatré. Di chi sono quei dischi gettati per terra? Cinquantaquattro. Che centro io? Non sono i miei. Sono di Maria. Rispondete e ripetete. Cinquantacinque. Di chi è questo vestito? Cinquantasei. È il mio. Cinquantasette. È il tuo vestito nuovo. Cinquantotto. Sì, è il mio vestito nuovo. Cinquantanove. Ma tu sei matta. Guarda un po' com'è ridotto questo vestito. Sessanta. Senti chi parla. Sessantuno. Di chi sono quei dischi gettati per terra? Sessantadue. Che centro io? Non sono i miei. Sono di Maria. Ascoltate. Ho già i biglietti. Eccoli. Questo è il tuo, Piero. Questo è il tuo, Francesca. Questi sono i vostri, Paolo e Giuseppe. Hai anche quelli di Maria e di Monica, Mario? Sì, questi biglietti sono i loro. Ripetete. Sessantanove. Ho già i biglietti. Eccoli. Settanta. Questo è il tuo, Piero. Settantuno. Questo è il tuo, Francesca. Settantadue. Questi sono i vostri, Paolo e Giuseppe. Settantatré. Hai anche quelli di Maria e di Monica, Mario? Settantaquattro. Sì, questi biglietti sono i loro. Ascoltate. Questi sono i vostri posti. Questo è il tuo, Paolo. Questo è il tuo, Francesca. Maria e Monica hanno il posto? Sì, il loro posto è questo. E il mio è questo. Ripetete. Ottantuno. Questi sono i vostri posti. Ottantadue. Questo è il tuo, Paolo. Ottantatré. Questo è il tuo, Francesca. Ottantaquattro. Maria e Monica hanno il posto? Ottantacinque. Sì, il loro posto è questo. Ottantasei. E il mio è questo. Ascoltate. Questi dischi sono di Paolo? Sì, sono i suoi. Anche queste riviste di jazz sono le sue? Sì, sono le sue. Te li ha prestati? Sì, me li ha prestati per qualche giorno. Ripetete. Ottantasette. Questi dischi sono di Paolo? Ottantotto. Sì, sono i suoi. Ottantanove. Anche queste riviste di jazz sono le sue? Novanta. Sì, sono le sue. Novantuno. Te li ha prestati? Novantadue. Sì, me li ha prestati per qualche giorno. Rispondete e ripetete. Novantatré. Questi dischi sono di Paolo? Novantaquattro. Sì, sono i suoi. Novantacinque. Anche queste riviste di jazz sono le sue? Novantasei. Sì, sono le sue. Novantasette. Te li ha prestati? Novantotto. Sì, me li ha prestati per qualche giorno. Unità quattordici. Dal vivo. Ascoltate. Dov'è la mia valigia? Non la trovo. Ah, eccola lì. No, quella non è la tua, è la mia. Dov'è andato Carlo? Questa è la sua valigia. Magari ha preso lui la mia. Do una mancia a chi trova la mia valigia. Ripetete. Dov'è la mia valigia? Non la trovo. Ah, eccola lì. No, quella non è la tua, è la mia. Dov'è andato Carlo? Questa è la sua valigia. Magari ha preso lui la mia. Do una mancia a chi trova la mia valigia. Ascoltate. Buongiorno. Sono il signor Molinari. Sono venuto a prendere i biglietti ferroviari per mia moglie e per me. Ah, sì, sono pronti. Glieli do subito. Eccoli. Ma questi non sono i miei. Ah, è vero, mi scusi. E può ripetermi il suo nome? Molinari. Un momento. Ecco, li ho trovati. Questo è il biglietto della signora Molinari. E questo è il suo. Sì. Questi sono i nostri biglietti. Va bene. Arrivederla, signor Molinari. Mi scusi e buon viaggio. Ripetete. Buongiorno. Sono il signor Molinari. Sono venuto a prendere i biglietti ferroviari per mia moglie e per me. Ah, sì, sono pronti. Glieli do subito. Eccoli. Ma questi non sono i miei. Ah, è vero, mi scusi. Può ripetermi il suo nome? Molinari. Un momento. Ecco, li ho trovati. Questo è il biglietto della signora Molinari. E questo è il suo. Sì, questi sono i nostri biglietti. Va bene. Arrivederla, signor Molinari. Mi scusi e buon viaggio.